Ciao, ben ritrovata o benvenuta sul mio canale. Oggi voglio parlarti di pennelli, un video che mi è stato richiesto spesso e volentieri. Oggi mi sono deciso, ho detto, mi metto qua, chiacchieriamo un pochino, in realtà vedrete solo i pennelli, non vedrete me, ma appunto parliamo di pennelli occhi. Per me è importantissimi, chi mi conosce sa quanto io sia precisa, pignola, quindi cerco sempre di ottenere il meglio sui lavori che faccio. Quindi per me è importantissimo avere gli strumenti giusti. Spesso sento, ma tutti questi pennelli servono? In realtà, certo, io sono probabilmente un po' esagerata, probabilmente perché questo è anche il mio lavoro, quindi cerco proprio di avere tutto ciò che mi occorre. Ma non mi perdo in chiacchiere, lascio subitissimo al video, fammi sapere se per caso hai qualche pennello da consigliarmi, magari mi è scappato, oppure hai qualche domanda su qualche pennello, su qualche acquisto che vorresti fare, insomma, scrivimi senza problemi, ti rispondo più che volentieri. Ora ti lascio al video, mi raccomando, ti invito a lasciare un like ed un commento e se ti va ti aspetto al prossimo. Ciao! Iniziamo subito con i pennelli per il correttore. Ti mostro due tra i miei preferiti, inizio subito con lui. Questo è di MAC ed è il numero 270S ed è fatto così, in questo modo, ha queste settole belle fitte. E si presenta così, abbastanza grosso, però proprio ha una misura perfetta, soprattutto per andare a correggere lo scuro dell'occhiaia interna. Quindi parlo di angolo interno e permette di concentrare la quantità giusta di prodotto, per cui voi andate a picchiettare proprio nella zona interessata e anche a sfumare. E' perfetto, io lo adoro. Come alternativa un po' più economica, ti faccio vedere questo di Gessup, il numero 142, che è fatto nello stesso modo, un po' più stretto, però il concetto è sempre quello. Quindi un pennello un po' cicciottello, se così vogliamo dire, te li metto anche vicini e come puoi vedere uno è un po' più lungo, ma diciamo che il concetto è quello. Io mi trovo molto bene con questi pennelli proprio per andare nella zona del contorno occhi. Poi direi di passare come pennello per applicazione dell'ombretto, quindi parliamo in questo caso di pennello a lingua di gatto, che non è altro che appunto un pennello fatto in questo modo. Questo è di Essence, quindi molto economico, che trovi tranquillamente da OVS, è fatto appunto così, vedi che è piatto, come una lingua del gatto. Quindi piatto, stretto, ed è perfetto perché per l'applicazione dell'ombretto, quindi nella palpebra mobile, e diciamo ti permette tranquillamente di stendere appunto l'ombretto in quella zona. Io ti ho preso questo perché è uno tra i miei preferiti, è sicuramente il mio preferito, però diciamo che per quanto riguarda il pennelli come questo tipo, ecco, non ho grandi preferenze. Ecco, questo è uno tra i miei preferiti, ma mi trovo bene anche con altri pennelli che possiedo, ecco, diciamo che passerei oltre, ecco. Sempre con lo stesso concetto, quindi lingua di gatto, ma un pochino più piccoli, quindi da precisione per la parte interna, per la parte esterna della rima inferiore. Ti faccio vedere due pennelli che per me sono veramente ottimi. Questo per esempio, trasparente, è di Nabla, e fa parte di un set, se lo trovo te lo mando, ovviamente ti lascio i riferimenti ai link dove puoi acquistare questi prodotti, così, se ti viene, insomma, una curiosità e vuoi vederli, sai dove trovarli. Questo è appunto di Nabla, è fatto così, sempre a lingua di gatto, però è molto piccolo, vedi, è molto molto piccolo rispetto a quello di Essence. È un'altra alternativa più economica, sempre Jessup. Questo, scusami, questo è Zoeva, ma avrei potuto prendere tranquillamente anche Jessup, perché, non so se hai avuto modo di vedere questi pennelli, sono praticamente identici a quelli di Zoeva, quindi Jessup e Zoeva sono praticamente identici. Adesso è un po' andato a scolorire, si è scolorito un po', però, ecco, ti ho preso il 237, hanno la stessa numerazione. Questo è di Zoeva e questo bianco è di Jessup, sono praticamente identici, sono identici. Quindi questa tipologia di pennello è ottimo per i lavori di precisione, quindi magari per, appunto, la parte esterna, inferiore, oppure l'angolo interno, lavori di precisione, ok? Quindi questi qua piccolini così. Poi, un'altra fissa, fissa nel senso che per me sono molto molto importanti, sono i pennelli a penna, a penna di questo tipo. Questo è uno, ed è di MAC, il 219. Questo è il famoso pennello a penna, che ti permette di fare lavori di precisione, anche lui, però rispetto all'altro è a penna, quindi ti permette di fare anche lavori del tipo la parte esterna dell'occhio, quindi l'angolo esterno, la famosa V, che ti permette, appunto, di fare l'occhio un po' più allungato. E di questo, di questa tipologia, mi piace moltissimo questo di Mulac, questo qua. Poi, ottimo, anche l'R1 di Stefania D'Alessandro, io questi pennelli ce li ho perché ho fatto il corso con lei, quindi ho avuto modo di conoscerli e amarli, quindi sono davvero ottimi, ottimi pennelli. Questo, l'R1, e poi te ne farò vedere anche un altro, sono per me indispensabili, anche lui, vedi, a penna, fatto in questo modo, oppure c'è quello di Charlotte Tilbury, che è un po' più, insomma, più high cost, quindi più costoso, fatto così, rispetto agli altri, che rimangono un pochino più a punta, lui rimane un pochino più tondo. Un altro pennello, sempre da precisione, che ormai è indispensabile, è lui, ed è il 230, di MAC, fatto così, un po' a penna, ma piatto, come puoi vedere. Sempre di Jessup, un altro a penna, è il 223, ma anche lui è fatto più tondo rispetto agli altri. Quindi, ti permette di applicare il prodotto, quindi stare precisa, ma anche nello stesso tempo sfumare. Questi sono i pennelli, diciamo, di precisione a penna. E poi veniamo a un'altra fissa che ho sui pennelli, che sono quelli da sfumatura, infatti ne ho recuperato un bel po'. Andiamo a vederli. Intanto, di sicuro, un pennello che mi senti nominare, mi vedi utilizzare spessissimo nei miei video, c'è questo di NYX, fatto così, per sfumature alte e ampie. Vedi che rimane molto lungo, è bello fitto. E lui è il numero 16. Io lo adoro, è perfetto, è ottimo, veramente per fare le sfumature alte e ampie, quindi non precise. Sempre di questa tipologia, un altro pennello per me indispensabile è questo di MAC, il 224S, fatto così. Come vedi, sono sempre molto simili, sono lunghi e belli, pieni di setole, insomma. Un altro che ho preso di recente, con cui mi trovo molto bene, sempre di MAC, è il 286S, ed è fatto così, in questo modo. Ha due fibre, come vedi, ed è ottimo anche lui per le sfumature alte. Poi, immancabile per me assolutamente è il 217S, il nuovo 217 di MAC, che rispetto al primo, il primissimo uscito che dovrei ancora avere, ed è questo qua, il vecchio, infatti è un po' usato, lui rimane un po' più, come dire, spettinato, lui ha le setole un pochino più compatte. Ottimo. Valida alternativa al 217, ci sono i pennelli di Zoeva, quindi 227, sono praticamente identici, e lo fa anche, però non ce l'ho qua, lo ha anche Jessup, sempre con la stessa numerazione. Poi, simile al 217, abbiamo anche quello di Mulac, la misura è sempre questa. Sempre da sfumatura, ma un pochino più sottile, abbiamo il 221 di MAC, come puoi vedere, uno è un pochino più stretto e più fine. Questo ti permette di fare sfumature un po' più limitate, un pochino più circoscritte e un pochino più leggere, ecco. E simile a questo abbiamo anche, sempre che fa parte del set che ti ho fatto vedere prima, l'altro pennello, è questo, è questo di Nabla. Fatto così, vedi, è da sfumatura, ma è un po' più piccolo rispetto a un 217 e rispetto a un 224. E ti posso assicurare che lavorano tutti e tre in modo diverso, e il risultato ovviamente è diverso. Ultimi, ma non meno importanti, sono l'R2 di Stefania D'Alessandro, che si è praticamente tolto. L'R2 è un pennello a penna cicione, se così vogliamo chiamarlo, e lui permette di ammorbidire le sfumature. E ti posso assicurare che fa un lavoro eccellente, perché va a correggere anche le eventuali macchie che fa l'ombretto. Lui è, come dire, ammorbidisce, ok? Quindi lo utilizzi in questo modo, verso l'esterno, verso l'interno, lui è ottimo. E sempre di questa tipologia abbiamo Mulac, questo qua, fatto anche lui in questo modo, rispetto all'R1 e all'R2, scusami, rispetto a quello di Stefania D'Alessandro, è ancora più cicione. Eh sì, la verità è quello, ma senza offendere nessuno di dei pennelli, non ho offeso nessuno, nessuno si è toccato. Ecco qua, questi erano i miei pennelli, i miei pennelli fidati, gli strumenti che utilizzo per me e per lavorare, quelli che proprio sono i fidatissimi, ecco. Se per caso hai qualche pennello da consigliarmi che ancora non ho preso, oppure hai qualche domanda che magari più specifica su un pennello, piuttosto che scrivimi, non avere nessuna esitazione a farlo, ti rispondo più che volentieri. Prossimamente ci sarà anche il video sui pennelli viso, anche loro importantissimi, assolutamente, quindi presto anche lui, tanti altri video, se hai qualcosa da chiedere, anche un video in particolare, chiedimelo pure, ti accontento più che volentieri, appena mi sarà possibile. Ora ti saluto, ti ringrazio per avermi ascoltato e se ti va, ti aspetto al prossimo video. Ciao!